Bentornati fratelli di tuberanza nel primissimo episodio su Mortal Kombat 11 Non siamo da soli perché con me c'è Joseph the Gamer Salve a tutti ragazzuoli, qui è Joseph Gamer, Peppe il Pazziatore Ed oggi ci distruggeremo a Mario... ah, stavo per di Mario Kart No, è Mortal Kombat, attenzione Esatto, lì mi hai già distrutto Oh, dobbiamo scegliere subito Sì, 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 perché mancano 5 secondi Ragazzuoli, se siete minorenni e avete paura del sangue Vi prego non guardate questo video Se invece non vi fate problemi potete guardarlo tranquillamente Prima di iniziare, pollicioni all'insù per supportare questi video Noi non siamo giocatori professionisti, sappiatelo Quindi non faremo delle combo terribili, inimmaginabili Purtroppo no, purtroppo no Proveremo a fare combo almeno da 3 colpi, questo sì, ci proveremo Però ragazzi, infatti gli scherzi Bisogna allenarsi per essere davvero forti Sicuramente ci sono tanti di voi che si allenano Purtroppo noi non l'abbiamo fatto, ma vogliamo divertirci Quindi per questo motivo oggi ci lanciamo direttamente in queste battaglie Per divertirci come farebbero due amici Che si incontrano, che si accasano online e si spaccano Bravissimo Hai fatto pregando il paragone perfetto Oh, basta un po' Mamma mia ragazzi, Joseph Gamer scatenatissimo Ma ci arrivi sempre con quella... Joseph Eh vabbè No Eh vai No, ma hai fregato Ma hai fregato Bravo Eh che diamine Ah Questo fa malissimo proprio Questo fa dal blu Oh Finalmente Ecco a cosa serve la... Ah Finalmente abbiamo capito a cosa serve Perché Ragazzi sul mio canale dovrebbe forse già esserci un video Anche lì c'eravamo fatti delle domande Sì sì sì, bravo Joseph Ecco No, sono finito Ottimo No No ragazzi No, Waiu, no Fermi No, sono finito ragazzi No No Non lo accetto Ma oh Me la son vista brutta bro eh Lo so, lo so Non riesco a fare le combo però Eh Aspetta Ma Io sto ancora provando le combo eh Mi sa che ho preso la variante sbagliata mi sa Io in tutta sincerità Non mi ricordo una combo Quindi va benissimo così Ma Il gusto del divertimento è questo qua Il gusto del divertimento è questo qua Il perfect però eh Ah sì? E mo vediamo Bam Beccate questo Aia E beccate pure questo Vai Questo fa proprio male Eh mo il problema è che stavo Ah Stavo incatastato lì Oh Ma stai calmo Eh no Eh dai Ma questo non si fa Mamma E chi l'ha detto? Aia Aia No Mannaggia No no Vabbè bro No bro Bro non ci credo Bro non ci credo Bro non ci credo No No vabbè È inaccettabile Questa cosa è inaccettabile No non ci credo bro Pure Mezzo secondo Ho visto anch'io No bro Dai dai Ma è proprio inaccettabile Questa roba Va bene L'accetto però L'accetto Una sconfitta ci sta Va bene Va bene Non si può sempre vincere Ovvio ma Va bene La devo accettare Non ci sta niente da fare Bro Dimmi tutto Che per caso ieri hai mangiato Hai mangiato patatine fritte? Perché? Ah boh nel cervello Si sentiva un po' di fritto Ah Diciamo che Un po' il sapore Che poi con te Se dico patatine fritte Vado sul sicuro Ah vabbè Ovvio Ovvio In realtà ieri proprio no Però Lo farò Magari Oggi Meno male Fuori c'è ancora il sole Regà perché Mi entra un po' di luce Sennò divento cieco Su sto gioco Allora Io prenderei personaggi diversi Da quelli che ho preso Sul tuo video Eh sì Direi di sì Io a sto giro Vado con Kabal Ma chi hai preso? Tano? Chi è? Cotalkan Cattivissimo Cotalkan Casuale Casuale Tana di Goro Ah zza abbiamo tutti e due Un po' di armi Ah ma guarda un po' dietro Quello dietro mi sa che sei tu Sono fighissimi Dovresti avere tipo una cresta? Sì Voglio vedermi la intro Bello Ma che figata è Bello bello Il tuo secondo me è molto veloce Eh sì è una tartaruga ninja sembra Eh vabbè Come ho detto a baracca Il dragone nero è sempre colpevo È perché ha visto lo scontro di prima no? Allora ha detto Ah puoi essere Ovviamente no però Ma dov'hai con ste capocciate? Oh mazzo Ma che è oh Aia Vabbè comunque il mio è bello grosso È proprio cattivo Eh il tuo ignorante porte Oh Ma che fai? Ma che sei impazzito? Oh Non ti permette Ma è proprio cattivo Non ti permette No i denti Pago il dentista Pago io Pago io Pago io Pago io Pagno Pagno la miseria Picchialo Oh e concateniamoli tre colpi di fila Ma basta Ma vabbè ragazzi Bro ma questo è il mio personaggio Cioè ragazzi Ma io Cioè qua Non so che dire Oh finalmente E insisti Kotal Khan Mannaggia la miseria Ma per quanti colpi io ti do? Io ti dia Sì Coniugiamo Coniugiamo bene i verbi Ma guarda Ma fai sempre le stesse mosse Oh Vabbè guarda E finalmente è una volta danno Bam Quanti danni ti fa però? Eh va bene Vabbè Sì Vabbè bro dai Ma guarda E meno male Ma finalmente Questo è quello che ti meritati qua Eh scusami Picchialo No vabbè ragazzi No Questo qua so finito io Fai Aspetta Non la so la finisce Io non ho giocato Sono un senza mani oggi Sono un senza mani È fatta? No bro è impossibile No Era difficile È tosta sì Molto Era difficile Questo era difficile Vabbè ragazzi Però oggi veramente pessimo Va bene Va bene 2-0 Hai vinto eh 2-0 Sì ma questo è fortissimo Ma scusa bro Una domanda Non hai vinto neanche un set? No come rivinci? Ti abbiamo vincito male Eh no È per sbaglio Ci ho premuto Ok Ragazzuoli Selezioniamo Un nuovo combattente Qualcosa che Non ho mai fatto vedere Allora chi è questo? Geras Mmm Dvora Dvora è fortissimo Questa è brutta e cattiva Ma chi cazzo lo è? Chi è? Deadpool? Noob cyborg Ma è bellissimo Ah Ma dietro ti fa vedere Lo stile di combattimento Dei personaggi che hai preso Io ci sono arrivato adesso Sono una lince Sono una lince bro Vabbè Però bro Non mi piace Standazzo Che sta avendo Sta sfida oggi Questa la devo vincere Io per forza Per forza È obbligatorio Inventa di qualcosa Eh Ecco qua Ecco che mi si è inventato Becca di sta stella marina Oh Meno male Va No perché stare nell'angolo Purtroppo Non è una grande idea Aia No Via Ottimo L'angolino Così Oh Ma ce la faccio io A fare qualche mossa Con questa Oppure Aio Ottimo Aio C'è questo Non è male Ti piace? Eh Guarda che Stuzzica l'appetito E la fantasia Ah ah No Non me l'aspettavo Vieni te ne faccio un altro Vieni Peccate questo No Vieni te ne faccio un altro Peccate questo Ancora Ma com'è fastidioso Sto coso Sì 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 Certo Peccate un altro Aia Ma così no però No così no Via Vado No Mamma mia ragazza Aspetta aspetta la fatality Me la devo mettere a schermo Ok Perché mi preparo per la fatality Nel prossimo turno Oh un attimo Me la sto a mettere pure io Eh bro Eh non lo sapevo Vabbè vai vai qua picchiami Eh non lo so Dai vai picchia No 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 Dai 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 Ok ok accetto 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 con piacere Ok Alla volta te ne sei imbassato È un po' esagerato Aiaia Oh Ehi No Ma che cavolo è Vai Che schifo Ripigliati Il veleno Ti mando un amico Giordano Giordano Sì il mio amico si chiama Giordano No vabbè bro E dai Eh dai bro ma che è No vabbè ma tu ormai Stai paratissimo Ma ormai Ormai cioè Senti ma vuoi scappare ancora per molto Cioè guarda guarda No vabbè ragazzi io Allora aspetta Allora aspetta Ma no Che hai fatto Ma mi è scappato il verme Ed ti ha colpito Mi è scappato il verme Ma mi è scappato il verme Allora bro Match regina Adri Osi così tanto Sì Sei sicuro Sì sì oso Voglio usare Sono essoso oggi Chi vince Oggi Questo match Oggi mi è scassato Oggi sì Oggi sì Ma non capisco se Se sono io che ti ho scassato O se sei tu che ti sei auto scassato Eh C'è un po' qua e un po' là Eh in sincerità Vabbè Vado con una ragazza Magari Bellissima Guarda Lei è bellissima Ma ti dico È molto Lenta Io prendo una cosa Ormai è andata Io prendo una cosa limitatissima La collector Addirittura perché Eh perché le collector Non sono limitate Vabbè ma lascia sta Mamma mia Ma sei il peggiore Nove battaglie hai vinto C'è scritto lì in alto a sinistra Sì Sì Vabbè Ma questo è proprio brutto Eh ma è proprio tosto Invece lei Lei è bellissima Vai 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 avanti No bro me l'hai saltata Devo vincere Adesso ti punisco Sì Sul più bello Ti ho dovuto far soffrire Questa però secondo me Ha tutte le carte in regola Oh 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 Io mi sto a parare Ma che Non ti puoi parare contro di me Ma che dici Non ti parare Ma pure Non ti pago neanche le spese Questo è bello No Scendi Con me non si vola Ok No Mamma mia ragazzi Stiamo molto zitti Se notate perché Uno cerca di mantenere Un minimo di concentrazione Ti ho beccato Non so come ho fatto Sinceramente Non ho mia idea Pensavo di non beccarmi Invece sì Vai dai Ma un sasso Un sasso per tutte le Per tutte le mani Mi hai dato Ma dai Ottimo così Attenzione che si riapre la sfida No qua sono fregatissimo Sono fregatissimo Vai Ottimo Vai così No No È a terra Mamma mia bro Aspetta che mi devo mettere La fatality Me la metto qua Sì Vabbè Non è difficile Bro Ci sei? Vabbè La sono messa pure io Ma non serve a niente Perché Che cosa ho fatto? No vabbè bro Ma stati calmo Bro mi devi scusare ma La perfetta Cioè il perfetta No Ma che Cosa fa? No vabbè bro No 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Va bene così Vai 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 No devi stare un po' più distante Più distante Più a destra No no È da vicino No Distanza media Ah no la mia era media Mamma mia bro Allora in primo luogo Ma che mi ha fatto a pezzi? Ma che mi ha fatto a pezzi? Ma che hai messo la cartella? Non ci credo Tipo sei netto della scuola Non ci credo No Però comunque sono contento Che non hai fatto il perfect là Perché Era dura eh No bro ti giuro Se ti facevo il perfect Ti implodevo Posavo il joystick Te lo dico Ma quanto è forte Mamma mia Vabbè basta Oggi è andata così L'abbiamo finito Che cavolo E spero di sì Perché Vai ti lascio i saluti Allora ragazzi In tutta sincerità Oggi ho fatto una prestazione Davvero pessima Quindi migliorerò Assolutamente Devo farlo E batterò il caro tube Che oggi Se l'è cavata molto molto bene Quindi sono sincero Non ho altro da aggiungere Questo Questo Te lo sei meritato Per tutte le volte Che mi hai dato schiaffi Su Mario Kart È vero Quindi In qualche modo Devo fartela pagare E questo sembra essere L'unico gioco In cui riesca a fare qualcosa Nonostante io sia scarsissimo Comunque Ragazzuoli Spero che vi siate divertiti Io e Joseph Sicuramente ci siamo divertiti Sappiate che sul suo canale È uscito un altro video Con dei combattimenti Su Mortal Kombat Andate a recuperarlo Perché Non vi spoiler Com'è andato a finire Ma Qualcosa Ha vinto Joseph E non dico altro No che è Oh È partita È partita Vabbè Noi ci vediamo con i prossimi video Sempre e solo qui Su Tuberanza Ciao 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 No!